Dopo due scudetti consecutivi vinti con le giovanili della Stella Azzurra Roma è da Lorenzo Gandolfi che One Team riparte per un nuovo progetto destinato negli auspici a far sì che anche il settore giovanile forlivese possa essere protagonista a livelli nazionali. Il progetto è molto interessante, non parte da zero come può succedere in altre situazioni ma qualcosa è già stato fatto. Adesso c'è la Serie A che è molto più presente, nella conferenza stampa ho detto che ci sono due motivi che mi hanno spinto a venire qua e lasciare la Stella Azzurra. Il primo è stato che in 30 anni di carriera in due situazioni solo sono stato un anno solo e una di queste situazioni è proprio Forlì, quindi mi è rimasta l'idea dopo 15-16 anni di riprovare a Forlì e vedere perché in tutto questo periodo nessun ragazzo di Forlì sia arrivato in Serie A. L'ultimo ragazzo arrivato in Serie A è Matteo Frassinetti e faceva parte proprio di quella squadra che io ho allenato così tanto tempo fa. La seconda idea, la seconda cosa che mi ha convinto a venire qua, perché chiaramente quando si parla di Forlì tutti hanno sempre questi dubbi, sono state le persone. Quindi il presidente di One Team, Pinza, e il general manager della squadra di Serie A, Renato Pasquali, che sa di cosa si parla, sa di settore giovanile, ha creato il settore giovanile di Treviso. Quindi due persone che mi hanno convinto, che mi hanno contattato e mi hanno trascinato in questa situazione.